Si è aperto il Consiglio Comunale con una nostra interrogazione per sapere che posizione ha questa maggioranza sulla questione delicata del digestore e ho avuto delle risposte estremamente evasive. Dopodiché si è discusso a lungo della mozione presentata dalla Lega che chiedeva un netto no alla localizzazione del digestore a Falcinete Bellocchi e anche in questo momento, che poteva essere importante per tutta la città, abbiamo avuto una risposta da parte del Sindaco che ha parlato per oltre 30 minuti senza alla fine affrontare quasi mai il discorso digestore e ha detto cose irrilevanti dal nostro punto di vista. Quello che è sicuro è che in maggioranza c'è un gran malcontento, ci sono dei consiglieri che si sono stracciate le vesti per dire che il digestore non deve essere fatto per esempio a Monteschiantello perché lì è previsto l'ampliamento della discarica. Questi cittadini lo dovrebbero sapere e anche i consiglieri che sono tanto propensi al no per il biodigestore realizzato lì dovrebbero parlare sinceramente con i cittadini dicendo che hanno votato invece nelle linee programmatiche per l'ampliamento della discarica. Poi invece per quanto riguarda Bellocchi nel sito è scritto nero su bianco che quello è il sito migliore. La nostra posizione riguarda sostanzialmente tre punti. Il primo è il dimensionamento. Secondo noi un dimensionamento come quello previsto dall'amministrazione è esagerato perché in discussione insomma in regione una proposta di legge fatta dal nostro consigliere regionale Pier Giorgio Fabri perché siano localizzati nella zona rurale dei piccoli digestori aerobici, degli impianti di compostaggio piccoli a chilometro zero che potrebbero alleggerire il conferimento nell'impianto che si dovrà realizzare. A questo punto non sappiamo più neanche se affano o meno. Per quanto riguarda invece il parternariato noi da una prima analisi che abbiamo fatto sui numeri riteniamo che ASET potrebbe sostenere l'impegno da sola e quindi in questo caso non ci sarebbe bisogno dell'ingresso di marche multiservizi perché non vorremmo che fosse un cavallo di Troia per poi essere risucchiati in quell'orbita, cosa che vorremmo assolutamente evitare. Il sindaco ha detto che su questo punto è d'accordo con noi.